bella a tutti ragazzi sono io Shogun01 in questo nuovissimo video che vi auguro da buona doverica allora nei commenti scrivetemi quali canzoni fare e che serie portare su youtube per esempio sulla playstation sul computer beh c'ho solo ma anche sul computer poi oggi vi porterò mi sembra un video di clash royale che vi faccio una partita online vediamo se vincerò o perderò ho creato anche un buon basso e poi le canzoni ah si una serie nella serie di insegretto che categoria fare e mi sembra basta arriverci